È ufficiale Bruno Valentini nuovamente candidato sindaco al Comune di Siena, non è stato semplice il percorso ma ce l'abbiamo fatta. Si è stata dura e lunga, forse un po' troppo perché questo ha un po' disorientato gli elettori, però abbiamo rimesso le cose a loro posto, il PD e il centrosinistra hanno un candidato credibile, orgoglioso di quello che ha fatto per questa città, ma anche consapevole delle tante cose ancora da risolvere e delle criticità che voglio esaminare in modo trasparente e diretto con i nostri cittadini. Ora basta con le polemiche, basta con le divisioni, il centrosinistra deve ritrovarsi unito, io sono assolutamente disponibile a scrivere una carta bianca che è quella delle cose che abbiamo fatto finora e delle cose che vanno migliorate e sviluppate e da ora si cambia registro perché sarò tutti i giorni in mezzo alla gente per ascoltarli, non farò gli errori che hanno fatto a livello nazionale. Qual è la ricetta per ricompattare questo PD e quali temi che possono essere le ripercussioni delle elezioni politiche? Allora, intanto rispetto reciproco, sentirci una comunità, trattare con rispetto non solo chi sta all'interno ma anche all'esterno e rispetto agli errori fatti con le elezioni politiche non parlare solo delle cose buone che abbiamo fatto e quindi dei risultati del buon governo ma essere apertamente consapevoli e disponibili a parlare di quello che ancora manca perché nei nostri quartieri, nelle nostre periferie la gente ha paura, ha sofferenze, ha disagi di ogni genere, economici e sociali e noi dobbiamo essere disponibili ad ascoltarli e a progettare il futuro insieme. Fortunatamente le risorse ci sono perché il lavoro fatto sul risanamento del bilancio è stato straordinario e queste risorse devono andare esattamente là dove c'è più bisogno. Ora si tratta di creare una lista di candidati in consiglio. Come sarà possibile mettere insieme tutte le anime del partito e tutte le correnti? Più che anime penso a quartieri, a rappresentanza, a categorie, ad aziende, a sensibilità, quindi non tanto le correnti col bilancino ma chi viene da un quartiere, da un'azienda, chi è più anziano, chi è più giovane, chi rappresenta istanze culturali, chi pensa al mondo degli anziani, quindi più uno spaccato della società che il bilanciamento fa le tessere. Sembra più una proposta civica, sta strizzando l'occhio in qualche maniera alle tante liste civiche che ci sono in questo periodo a Siena. Strizzare l'occhio o no, ma capire il disagio che rappresentano sì. Un'ultima domanda. I toni sono stati molto accesi in queste settimane che hanno portato al primario sì, primario no. Quali sono le ripercussioni adesso verso anche quegli esponenti dello stesso partito che più volte l'hanno tacciata con toni così accesi? Il partito è uno solo, il candidato è uno solo, io rappresenterò e rispetterò le attese delle persone che inizialmente non credevano in me e che ora devono cambiare idea, perché se non cambiano idea io farò di tutto perché siano inoffensivi e quindi siamo nei margini di questa partita. Questa partita dobbiamo giocarla se tutti i giocatori spingono il pallone verso la stessa porta.